Musica Mi trovo in questo momento con Fabrizio Danna che è il presidente di Jeghi, giusto? Giusto, presidente e designer del marchio Jeghi, che è un marchio italiano, di cui siamo molto fieri di questa cosa. È nato pochi anni fa, quindi facciamo quest'anno il decennale, quindi è un marchio relativamente giovane nel mondo dell'abbigliamento che ha avuto già una grande performance verso i nostri consumatori e clienti che apprezzano molto il nostro gusto, il nostro prodotto. Tra pochissimo vedremo la vostra performance, quindi a parte che sono curiosissima, voglio sapere che novità ci saranno. Io già vedo un qualcosina dalla felpa che c'è questo 1472, cos'è, che progetto? Spiegaci un po'. Il 1472 è l'anno di fondazione della più antica banca del mondo, che è il Monte dei Paschi di Siena, con il quale abbiamo fatto questo progetto molto molto bello, ritengo molto interessante, anche perché ha una finalità di beneficenza. Quindi parte del ricavato andrà all'ACRA, che è un'associazione per costruire dei acquedotti in Africa e quindi portare acqua in Africa. Poi sarà sicuramente più precisa lei perché sicuramente, essendo delle Monte dei Paschi di Siena, sa bene questa cosa. Noi abbiamo sposato questo progetto perché riteniamo estremamente importante ed è molto coerente con il nostro prodotto, che è un prodotto sportswear democratico, io amo definirlo così perché è uno sportswear che può essere avvicinato da chiunque, quindi cerchiamo di fare dei prezzi anche che siano prezzi molto concorrenziali. Noi siamo il primo prezzo dei negozi di alta qualità, quindi per noi questa è un po' la nostra funzione. Quale migliore cornice allora che è questa, che insomma più democratica di così tutti possono vedere la vostra performance, non solo gli addetti ai lavori. Spero che piaccia ma credo che abbia già avuto delle belle risultati. Sicuramente sì. Chiara Galgani, allora raccontaci un po' questo progetto. Anna Cordice è infatti molto strana, è la prima volta che una banca sfila su una passerella, lo fa con una linea di abbigliamento appunto che è stata realizzata con Jaggi, una linea per lui e per lei, si tratta di una felpa che è questa con 1472 che è l'anno di fondazione della nostra banca, che giustamente prima veniva ricordata la banca più antica del mondo e poi anche accompagnata da una pole, da una t-shirt per lui e per lei. Si tratta ovviamente per noi di un progetto di comunicazione estremamente importante, che dà visibilità al marchio della banca attraverso appunto un numero che ovviamente fa parte del nostro mondo, che è quello economico-finanziario rappresentativo, la data di nascita appunto del nostro istituto, e lo fa con un brand che accompagna però oggetti e cose della vita quotidiana, che quindi ci avvicinano, almeno questo nella nostra ovviamente strategia, ai clienti e comunque alla gente. I capi di abbigliamento saranno in vendita in esclusiva online a partire dal 7 marzo, sul sito www.u1472.it. Come ricordavate prima, il progetto ha anche una fissionalità sociale, perché circa il 10% del ricavato e delle vendite saranno devoluti ad Acra, che è una onlus molto conosciuta a livello internazionale, che si occupa soprattutto di portare l'acqua, cambiando quindi veramente la vita delle popolazioni disagiate, nell'Africa. In particolare con questo progetto e con la vendita dei capi di abbigliamento, andremo a finanziare la costruzione di due acquedotti in Senegal, per cui ovviamente capi di abbigliamento che rappresentano comunque l'eccellenza del Made in Italy, che è un po' poi il claim di tutta la nostra campagna pubblicitaria, e che hanno anche uno scopo benefico, che è quello di aiutare le popolazioni disagiate ad avere un bene precioso come quello dell'acqua. È un progetto importantissimo, davvero. Siamo veramente orgogliosi, io e i miei soci, Flavio Billeri e Amodeo Bovicelli, credo che abbiamo sposato questa iniziativa con un grande entusiasmo e con una grande professionalità. Spero che questo sia apprezzato dai nostri consumatori. Sicuramente, allora io vi lascio la vostra performance e me la vado a godere anch'io. Sieduta in prima fila magari, spero.